Lunedì 16 febbraio a Palazzo Buonaccorsi di Macerata, comune candidato a Città Creativa dell'UNESCO, si è discorso di Expo 2015. L'iniziativa si colloca nell'ambito del percorso di avvicinamento all'esposizione universale che ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni, sta sviluppando a livello nazionale e che ha scelto tipicità Made in Marche Festival qual evento di riferimento per la nostra regione. Per l'esposizione universale che partirà il prossimo primo maggio sono attesi oltre 25 milioni di visitatori, un'occasione unica e irripetibile per mostrare al mondo tutte le sfaccettature dell'Italian Style. A fare il punto della situazione Matteo Mauri, responsabile delle relazioni istituzionali di Expo 2015. L'esposizione universale di Milano sarà proprio questo, cioè la messa in mostra delle eccellenze italiane e delle proprie peculiarità territoriali. Da questo punto di vista si tratta di una grandissima e direi unica opportunità perché l'Expo precedente in Italia si svolse nel 1906. Mancano solo due mesi e mezzo e finalmente comincia a esserci una grossa consapevolezza da parte di tutti sia gli opinion leader che i cittadini che Expo in realtà sarà una grossa opportunità per l'Italia, per l'Italia tutta e il suo sistema e la possibilità di innescare finalmente un rilancio. A livello territoriale ci sono grosse opportunità e ogni comune e ogni regione che ha investito nel territorio, nelle proprie tipicità dovrà fornire delle grandi attrattività ai visitatori stranieri che verranno a visitare Expo e che siano appunto attratti sui territori che dovranno dare il meglio di sé. Grazie. 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 Grazie.